La partita è appena terminata, il Taranto si è imposto sull'Altamura per 1-0, che partita hai visto? È stato un Taranto certamente più reattivo dopo le due sconfitte consecutive, però non è stato probabilmente il Taranto che ancora ci aspettavamo, perché è partito bene, tanto che a conti fatti ha trovato la rete che ha deciso la partita, però ci aspettavamo probabilmente un Taranto un po' più offensivo, visto la presenza dall'inizio di D'Agostino. Nonostante tutto la partita è finita 1-0 e non è arrivata la rete d'erra a doppio. Un D'Agostino che abbiamo visto in alcuni tratti un po' isolato dalla manovra del Taranto, come mai secondo te? Io credo che D'Agostino non sia ancora al top della condizione fisica e credo che sia questo il motivo per cui mister Ragno fino ad oggi non l'abbia schierato con una certa continuità, anche perché nel complesso la rete che ha fatto con l'Ardo è arrivata su calcio piazzato e col Grumentum che è partito dall'inizio non abbiamo visto un grande D'Agostino, infatti lì in quella partita si è sbloccata dopo che è uscito D'Agostino. Sapevamo che oggi avremmo trovato un team Altamura sbarazzino, un po' perché Monticciolo aveva annunciato una squadra aggressiva e perché quando si cambia allenatore c'è sempre una reazione da parte della squadra che subisce questo tempo. Non aveva nulla da perdere anche l'Altamura oggi? Tra l'altro, era il Taranto che doveva fare la partita, però onestamente se devo essere sincero dopo due sconfitte, tra l'altro che hanno lasciato molto la mano in bocca mi aspettavo un Taranto un po' più offensivo e mi aspettavo più concretezza sotto porta. Diciamo che di buono ci sono i tre punti che erano necessari per non perdere il contatto con l'Avetta, se è confermato il risultato Brindisi foggia 1-1 quindi recuperiamo due punti sulla prima in classifica, ci portiamo a casa solo il risultato positivo oggi. Diciamo la verità, si sono scontrate due squadre che a livello societario non è che si siano comportate molto bene con Massimo Giove parlo proprio col presidente Massimo Giove, intanto la settimana scorsa Massimo Giove è stato trattato non da presidente ma dall'ultimo abitante sulla faccia della terra, non è corretto perché Massimo Giove è sempre il presidente di una squadra che si chiama Taranto che ha una tradizione e ha un nome. Sono d'accordo con te. Quindi una mancanza di rispetto non solo al presidente ma ai cittadini di Taranto e alla città di Taranto non si è mai visto che un presidente di una squadra che tra l'altro anche il Foggia ha una certa tradizione si pronunci in quei termini contro un altro presidente. Io ho visto il tuo editoriale su Facebook, sei stato molto duro sotto questo aspetto, concordo con te io non sono d'accordo, in questa settimana si è detto questa è la serie D, no perché da un po' di anni non assistevamo più a questi episodi quest'anno sono ritornati proprio in quelli di Foggia e ci corrono indicazioni che anche a Brindisi oggi è successo qualcosa quindi non vorrei che adesso queste squadre mettano un po' tutto sul piano della rissa cosa che in serie B effettivamente non si vedeva più da diversi anni. Allora bisogna dire alcune cose, il Taranto viene anche da altre esperienze dell'anno passato qualcuno forse ha la memoria corta, però l'anno scorso a Picerno è successo qualcosa di vergognoso ed è passato nel dimenticatoio. La scorsa stagione è terminata con un'indagine di illecito sportivo tra Picerno e Bitonto nessuno ne sta parlando più. E di solito questo poi avviene dopo tanto tempo quando il campionato ormai è già iniziato così come è accaduto con il Matera qualche anno fa. Certo, ma in settimana non è stato dato molto risalto alla notizia ma due giocatori del Picerno sono stati squalificati per via di un tesseramento errato nella passata stagione e sono due giocatori importanti come Santagnello ed Esposito mentre il Taranto queste cose le ha fatte tutte in regola quindi molte volte si dimenticano con troppa facilità questi aspetti. Ora iniziamo di nuovo questo campionato andiamo a giocare a Colcasarano e c'è l'espulsione di Beppe Genchi andiamo a Foggia ed è successo quello che è successo. Io credo che intanto ci voglia rispetto per il Taranto perché il Taranto non è stato rispettato se vediamo tutte e due queste stagioni ma poi secondo me chi gestisce questi campionati dovrebbe essere un po' più guardingo da questo punto di vista. A maggior ragione il Taranto deve fare la corsa su se stesso deve accumulare quanti più punti e quante più vittorie possibili perché alla fine nel corso di un campionato questi episodi possono veramente magari compromettere il risultato stesso e la vittoria del campionato. Noi ti ringraziamo, ti auguriamo buon lavoro e ci vediamo alla prossima. È stato un vero piacere, grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.